Oggi vi porto alla scoperta di alcuni utensili straordinari che i nostri nonni usavano quotidianamente ma che oggi sono quasi dimenticati. Questi oggetti non solo hanno segnato un'epoca ma sono stati i precursori dei dispositivi che usiamo oggi. Vediamo un po' se li conoscete. Iniziamo con questo oggetto che sembra molto antico ma che i più grandi di voi avranno visto utilizzare dalle proprie madri. Sì perché è rimasto in molte case fino agli anni 50. Si tratta del ferro da stiro a carbone. Funzionava su un principio semplice ma efficace. Ovviamente non andava all'elettricità come quelli di oggi. Era fatto di metallo pesante e aveva un compartimento o una sorta di scatola incorporata nella base dove si poteva inserire il carbone ardente o le braci. Il calore prodotto dal carbone riscaldava la base metallica del ferro permettendo così alla massaia di stirare i vestiti. Il procedimento non era proprio velocissimo. Bisognava accendere prima il carbone e aspettare che diventasse incandescente e poi inserire il carbone ardente nell'apposito compartimento. Era importante non riempire eccessivamente il compartimento per evitare che il calore eccessivo bruciasse i tessuti. C'era anche un trucchetto per assicurarsi che il calore fosse distribuito uniformemente. Si batteva il ferro prima di iniziare a stirare. Vi sembra pesante? Beh lo era! Pesava circa 2 kg che già dopo qualche minuto di utilizzo si fanno sentire. Pensate usarlo per ore. Io non stir quasi mai però quando lo devo fare uso uno di questi ferri economici che però sono molto leggeri. Il peso del ferro da stir a carbone però non era solo uno svantaggio perché almeno aiutava a esercitare una pressione sufficiente sui tessuti per levigarli efficacemente senza la necessità di premere troppo forte manualmente. Esistevano vari modelli di ferri a carbone. Alcuni avevano coperchi removibili o maniglie in legno isolante per proteggere l'utente dal calore del metallo. Prima dei ferri a carbone esistevano ferri da stiro in metallo massiccio noti come ferri piatti o ferri tristi. Se qualcuno sa perché venivano chiamati tristi me lo scriva nei commenti. Questi tipi di ferro venivano riscaldati su fornelli a legna o carbone e non se ne scaldava solo uno perché dovevano essere alternati frequentemente per mantenere una temperatura costante durante il lavoro. Ovviamente era tutto piuttosto scomodo e inefficiente. Ma per fortuna nel XIX secolo con l'avanzamento delle tecnologie metalliche e la disponibilità di materiali i ferri da stiro iniziarono ad evolversi e quelli a carbone erano una significativa innovazione perché permettevano di mantenere il ferro caldo per periodi più lunghi senza doverlo riscaldare continuamente. Tuttavia i ferri a carbone presentavano una rottura di scatole in più rispetto a quelli piatti, ovvero la necessità di frequente manutenzione. Bisognava spesso pulire il compartimento del carbone per evitare l'accumulo di cenere e residui che potevano ostruire l'aerazione o sporcare i tessuti. Come tutti i ferri, compresi quelli odierni, tra i rischi c'era quello di uscionarsi e provocare incendi. Soprattutto se il ferro veniva lasciato in custodito o se il carbone non era completamente spento dopo l'uso. Con l'introduzione e la diffusione dei ferri da stiro elettrici nel corso del XX secolo, i ferri a carbone sono stati gradualmente sostituiti. I ferri elettrici offrivano una maggiore comodità, controlli di temperatura più accurati e un rischio ridotto di incendi e ustioni, rendendo così obsoleti i vecchi modelli a carbone. Il prossimo oggetto l'avranno usato anche i millennials come me, magari a casa di qualche nonno o zio. È il telefono a disco rotante. Divenne popolare a partire dagli anni 20 e sebbene fossero già presenti negli anni 60 tecnologie alternative come i telefoni a tasti, il telefono a disco rimase comune nelle case e nelle aziende fino agli anni 80, quando iniziò a essere gradualmente sostituito dalla tecnologia più moderna. Come funzionava? Per fare il numero dovevi ruotare il disco fino alla cifra desiderata e poi rilasciarlo. Il disco tornava lentamente alla sua posizione originale. Durante il ritorno, il disco interrompeva una corrente in un circuito elettrico, generando una serie di impulsi elettrici. Il numero di interruzioni corrispondeva al numero composto. Ad esempio, se l'utente componeva il 5, il disco generava 5 impulsi. Questi impulsi venivano trasmessi alla centralina telefonica, dove venivano interpretati per connettere la chiamata al numero desiderato. Secondo me, uno dei motivi per cui sopravvisse così a lungo nelle case era la soddisfazione che dava a fare il numero. Non so, per me da piccola era una specie di ASMR, eccitante e rilassante nello stesso momento. Sicuramente ha avuto un ruolo fondamentale la sua affidabilità. La semplicità meccanica di questo sistema ne faceva uno strumento estremamente duraturo, capace di resistere a molti anni di utilizzo quotidiano senza guasti significativi. È anche vero che magari non tutte le volte hai tempo di farti una sessione di ASMR per telefonare. Rispetto ai telefoni a tasti era più lento nel comporre il numero. L'utente doveva attendere il ritorno del disco per ogni cifra composta. Fu così che con l'avvento dei telefoni a tastiera che permettevano una composizione più rapida e avevano servizi aggiuntivi, i telefoni a disco rotante iniziarono a cadere in disuso. Vi siete mai chiesti come si faceva a fare le fotocopie prima che avessimo a disposizione le moderne fotocopiatrici? Non parlo di stampare libri o giornali a grande tiratura, ma fare poche copie fai da te velocemente. In questo caso non era necessario avere una tipografia, ma bastava comprare un ciclostile. Venne inventato nel 1881, ma questo strumento venne utilizzato fino alla metà del XX secolo, evolvendosi grazie all'elettricità, perché prima funzionava a manovella. Alcuni di voi potrebbero averlo utilizzato a scuola, perché era un mezzo essenziale per la duplicazione di documenti in uffici, scuole e altre istituzioni. Era particolarmente utile per la produzione di quantità medie di copie, posizionandosi in mezzo al costoso e laborioso processo tipografico e la produzione di poche copie a mano. Come funzionava? L'uso del ciclostile iniziava dalla preparazione dello stencil. Il testo veniva digitato o scritto su uno speciale foglio coperto da una cera o da un altro tipo di rivestimento. La pressione della macchina da scrivere o di uno strumento appuntito come una penna stilografica senza inchiostro rimuoveva il rivestimento in corrispondenza dei caratteri o delle immagini, creando così un negativo del testo sul foglio. Lo stencil veniva poi fissato alla macchina ciclostile, che spingeva l'inchiostro attraverso gli spazi aperti dello stencil su fogli di carta sottostanti, duplicando così il documento originale. Il ciclostile era spesso usato da gruppi politici, attivisti e piccole organizzazioni per produrre volantini, manifesti e altri materiali di propaganda, in quanto permetteva una rapida diffusione delle informazioni a basso costo. Nelle scuole, il ciclostile rivoluzionò la distribuzione di materiali didattici e circolari, facilitando la comunicazione e l'accesso all'informazione. Nonostante la sua apparente semplicità, il ciclostile ha contribuito allo sviluppo di altre tecnologie di stampa, e ha influenzato il design delle prime fotocopiatrici e delle stampanti. Quando negli anni 60 però arrivarono le fotocopiatrici e ci fu un'evoluzione delle tecnologie di stampa digitale, il ciclostile cominciò a diventare obsoleto. Riconoscete questo movimento continuo? È quello necessario per far funzionare le vecchie macchine da cucire a pedale. Sì, anche le moderne macchine da cucire hanno il pedale, ma vanno a elettricità. Mentre le prime macchine da cucire a pedale andavano tramite un movimento meccanico e furono una vera innovazione, perché prima di esse le macchine da cucire erano manuali. Per far muovere l'ago e quindi formare i punti, dovevi muovere continuamente con una mano, una manovella o una leva. La macchina a pedale invece liberava entrambe le mani dell'utente per gestire il tessuto, migliorando notevolmente la comodità, l'efficienza e la velocità della cucitura. Tuttavia dovevi spingere e rilasciare il pedale in continuazione per cucire, mentre ora puoi lasciare il piede sull'acceleratore e la macchina va da sé. Le prime macchine da cucire a pedali divennero popolari nel corso del XIX secolo, soprattutto a partire dal 1850. Queste macchine continuarono a essere ampiamente utilizzate fino alla metà del XX secolo, quando furono gradualmente sostituite da versioni elettriche più moderne. Come funzionava? Il pedale, legato a un grande volano tramite una cinghia, permetteva all'utente di azionare la macchina pedalando, in modo simile al meccanismo di una bicicletta. Pedalando si trasferiva energia cinetica dal piede al meccanismo della macchina. Il movimento del pedale azionava un sistema di ingranaggi che convertiva il movimento rotatorio del volano in un movimento su e giù del lago. E l'ago infilava il filo attraverso il tessuto creando cuciture uniformi. L'utente poteva regolare la tensione del filo e la lunghezza del punto tramite delle manopole sulla macchina, permettendo una varietà di tecniche di cucito. Una delle caratteristiche più significative della macchina da cucire a pedali era la sua indipendenza dall'elettricità, rendendola ideale per l'uso in aree prive di accesso all'energia elettrica. Oltretutto era anche bella da vedere. Molte macchine da cucire a pedali di quel periodo erano artisticamente decorate con motivi floreali e altri disegni decorativi, che le rendevano non solo strumenti utili, ma anche oggetti d'arredo per la casa. L'introduzione della macchina da cucire a pedali rese il cucito molto più accessibile e meno faticoso, contribuendo all'emancipazione delle donne, permettendo loro di produrre a casa articoli tessili rapidamente e in modo efficiente. Nonostante la prevalenza di macchine da cucire elettriche moderne, le macchine a pedali hanno ancora un mercato tra gli appassionati di cucito per il loro fascino vintage e la loro affidabilità. In alcuni paesi in via di sviluppo sono ancora largamente utilizzate per la loro semplicità e la mancanza di dipendenza dall'elettricità. Cosa sta facendo questa donna? Si sta asciugando i capelli con un asciugacapelli a cuffia degli anni 60. In questi anni, tra gli asciugacapelli per uso domestico, si diffusero questi modelli portatili che avevano una cuffia integrata. Questo dispositivo combinava praticità e efficienza, permettendo alle donne di asciugare i capelli senza dover stare sedute a lungo in un posto, come invece richiedevano i più ingombranti asciugacapelli a casco, che erano invece stazionari. Oltretutto, la cuffia asciugacapelli utilizzava un sistema di ventilazione innovativo che permetteva una distribuzione uniforme del calore, evitando i danni di un calore eccessivo concentrato in un'unica area. Questo era molto importante per prevenire i danni ai capelli e al cuoio capelluto, un problema comune con i primi asciugacapelli più rudimentali. Questo phon sostanzialmente era costituito da una cuffia leggera e flessibile attaccata a un tubo anch'esso flessibile. L'altro capo del tubo si collegava a una scatola portatile, all'interno della quale si trovava l'asciugacapelli vero e proprio. Era facile da montare e smontare, rendendolo un'opzione pratica per l'uso quotidiano. Oltretutto, rispetto agli asciugacapelli tradizionali del tempo, era notevolmente più silenzioso. Un vantaggio apprezzato in un contesto domestico, specialmente in case con bambini piccoli o in appartamenti condivisi. Grazie alla sua leggerezza e facilità d'uso, le donne potevano indossare la cuffia mentre svolgevano altre attività domestiche, come cucinare o pulire, rendendo l'asciugatura dei capelli un'attività secondaria, piuttosto che un impegno che richiedeva tempo dedicato. Non so voi, ma io vorrei provarla. Avendo i capelli lunghi, con questo ci metto una vita ad asciugarli. Se ne volete una anche voi, mettete like e iscrivetevi al canale. Ma anche se non la volete. L'introduzione di queste cuffie asciugacapelli ha riflettuto e influenzato i cambiamenti nei ruoli di genere e nelle aspettative sociali dell'epoca. Con le donne che entravano sempre di più nel mondo del lavoro e avevano meno tempo da dedicare a lunghe sessioni di bellezza, era evidente la necessità di dispositivi che permettessero di risparmiare tempo. L'asciugacapelli in cuffia permetteva alle donne di mantenere i propri standard estetici, mentre gestivano impegni professionali e domestici. I modelli successivi sono diventati più efficienti, con migliori sistemi di controllo della temperatura e design ancora più leggeri e compatti. Tuttavia, oggi non se ne vedono in giro, perché con l'avvento di tecnologie più avanzate, come gli asciugacapelli ionici e a infrarossi, l'uso delle cuffie asciugacapelli è calato notevolmente. Conoscevi questi oggetti? Li hai mai usati o li hai visti usare? Manda pure questo video a chi non li ha mai utilizzati e se ne conosci altri che non ho nominato, scrivimeli pure nei commenti. Alla prossima, ciao!